Sette giorni dopo, ancora per la Pei TV, i rosa nero giocano a Cesena. I romagnoli stanno in vetta alla classifica, il Palermo ha zecca tutte le mosse e sembra poter portare in porto almeno un pareggio. Scarafoni, ex di turno, riesce a battere anche il portiere avversario Micillo, ma sulla linea salva un difensore cesenate. Poi nella ripresa Arcoleo rivoluziona la squadra, che accusa qualche problema di assestamento. Ne approfitta il cecchino Hubner, che in un attimo di distrazione corale della difesa rosa trova la traiettoria giusta per battere Berti, una vera e propria beffa. Il Cesena alla fine vince per 1-0. Grazie.